Mi chiamo Giuseppe Schiaccianoce e voglio sentire le mani battere per l'Etna Country Style! Giuseppe, il tuo gruppo? Sono pronti loro? Ragazzi, voglio vedere venire su questo palco gli Etna Country Style! Voi siete pronti con la musica? Io vorrei precisare che questa ovviamente non è una fase competitiva, questo è solo un show perché loro hanno vinto questo titolo, abbiamo il piacere di mostrare una disciplina che ancora nelle palestre, nei centri sportivi non va per la maggiore, ma immaginiamo che nei prossimi anni, oltre alle danze caribiche, oltre all'info, oltre al fitness, ci sarà anche il Country, che è uno stile carino, vi riporta agli Stati Uniti d'America, poi ve ne diamo un piccolo saggio, se volete informazioni, poi ci è Giuseppe Scaccianoce, il sito è www.ethnacountrystyle.it www.ethnacountrystyle.com Bene, grazie a tutti! Intanto buonasera a tutti, lo facciamo questo applauso, forza! Riscaldiamoci! E allora, noi siamo qui in questa, diciamo, cultura Pichindolor per dimostrarvi un po' il Country in questi tre balli principali. Abbiamo un primo ballo che è un irlandese, perché la line dance nasce dai tempi dell'Irlanda, quindi dai primi irlandesi emigrati negli Stati Uniti del Sud, e quindi partiamo dagli inizi del Novecento, poi ci sposteremo verso gli anni Cinquanta, quindi un ballo caratteristico pezzano degli anni Cinquanta, e concluderemo con un New Country fatto proprio negli ultimi periodi, negli ultimi anni in America. Quindi un excursus di questo Country in tre tappe, irlandese, Tush Push e Dr. Doctor. Grazie, buona visione e buon divertimento a tutti! Ciao, Ethnacountrystyle dal vostro Gio! Ok, godiamoci questi sei minuti di Country, e poi iniziamo con le fasi delle gare, vi devo dare mille informazioni adesso. 3, 2, 1, musica Country! GERRY, le sedie, GERRY! 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 E questa è la prima parte di questa esibizione che dura sei minuti, che come detto vi porta in diverse parti della storia dei Country, parte il pezzo numero due. Sì, sì, sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti